buongiorno a tutte buongiorno a tutti dovremmo esserci diretta facebook 26 maggio mi sembra proprio che siamo ecco che appaiono i primi cuoricini ma dante d'altronde chiama i cuoricini ecco bene 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 buongiorno francesco buongiorno riccardo eccola eccola eccoci bello bello gianni la professoressa baldo insomma tutti gli amici ecco va bene va bene iniziamo a scaldare i motori il mese si sta concludendo stiamo andando avanti con questa maratona dantesca faccio un riassunto ormai quasi ozioso perché il gruppo di fedeli è diventato un gruppo solido però insomma si dovesse connettere qualche persona nuova e poi comunque insomma il 25 marzo è stato il dante di questo dante di che io guardo un po con ironia un po con snobberia ma d'altronde oggi parleremo di superbia e quindi insomma ci sta che io sia un po superbo perché sapevamo come sarebbe andata a finire quel giorno avrebbero tutti parlato di dante dopo di che l'abbiamo fatta vediamo il prossimo evento vediamo il prossimo avvenimento e quindi dal dante di in poi nessuno ha più parlato di dante nessuno nessuno di quelli che avrebbe dovuto parlare di dante ma io il mio amico e i miei amici riccardo starnotti e gianni bacchelli e devo dire riccardo dato magnificamente questa operazione ci siamo costituiti come task force volontaria dantesca per cui stiamo facendo producendo tutta una serie di incontri ognuno col proprio stile ognuno con il proprio spirito e e vedo che queste cose stanno molto funzionando stanno andando molto bene insomma riccardo che tiene il conto di queste cose siamo arrivati a 3000 visualizzazioni e in più c'è tutto un movimento insomma addirittura con l'argentina insomma ecco buonasera scusate giovanna a francesco ho visto norma prima che appariva adriana buonasera buonasera simona insomma adesso saprete come funziona ogni volta vi saluterò col cuore perché sennò diventerebbe sarebbero molte le interruzioni e quindi abbiamo fatto tutto il mese di aprile tutto il mese di maggio e anticipo che stiamo parando cristina superba come non mai stiamo preparando il calendario per il mese di giugno non ci ferma più nessuno e il 29 maggio allora giovedì ci sarà l'amico riccardo starnotti sulla sua pagina che parlerà del canto undicesimo dell'inferno canto bellissimo e difficilissimo alle ore 21 mentre venerdì 29 probabilmente sulla pagina a 2 io e lui dialogheremo di nuovo quindi rifaremo una diretta 2 mi sembrava che l'esperimento fosse piaciuto e quindi parleremo della seconda parte di questo dante tra puer e senex stiamo appunto anche preparando ultimando gli ultimi dettagli per il calendario di giugno ci anticipo già che ritorno di roberto leopardi parleremo di dante salomone e poi ci sarà insomma un piatto ricco micifico allora oggi l'argomento che ho pensato io nel 2020 ho deciso di dedicarmi prevalentemente al purgatorio l'anno prossimo mi dedicherò prevalentemente al paradiso ed è anche per me un'occasione utile per tornare a studiare per tornare ad approfondire una cantica che devo dire molto molto bella molto molto intrigante ma spesso sottovalutata allora oggi vi parlerò della cornice dei superbi e questa è un po l'occasione per insieme a voi ragionare su come è costruito il purgatorio perché forse eh questo purgatorio non è poi così chiaro nei nei dettagli anche le mie dirette sul purgatorio ehm stavo poco sugli elementi diciamo così strutturali ho parlato dei sogni ho parlato di di alcuni personaggi però di fatto che cosa sia questo purgatorio come sia costruito eh magari a volte eh sfugge allora parlando oggi di una cornice e poi capiremo che cos'è cosa sono queste cornici ehm cercherò anche di provare a raccontare la logica purgatoriale che è una logica dove ehm le anime appunto cantando piangendo si fanno belle si purgano si preparano a vestire la la veste gloriosa di luce e parto dalla eh cornice dei superbi perché di fatto è la prima cornice che vede Dante che che visita Dante ed è una cornice sicuramente eh impegnativa e vedremo per quale motivo facendo un po la struttura in maniera eh benvenuta serena facendo un po la cornice in maniera ehm la la struttura del purgatorio in maniera eh schematica il purgatorio la cantica del purgatorio cioè il libro del purgatorio è diviso in tre parti cioè rispetto l'inferno e rispetto il paradiso il purgatorio ha questa caratteristica nel senso che il purgatorio vero e proprio è la parte centrale di queste tre parti la prima parte è un antipurgatorio è la spiaggia delle anime negligenti queste anime che dove dentro ci sono ciao virginia benvenuta e le anime dei negligenti quindi i morti per morte violenta i pigri gli scomunicati che stanno in questa ehm spiaggia in attesa di poter iniziare il cammino e questa parte va dal canto uno al canto nono il purgatorio vero e proprio cioè il luogo dove le anime si purgano noi lo abbiamo dal canto decimo al canto ventisettesimo e questo è il purgatorio che è costituito di fatto di sette cornici sette come sono i sette peccati capitali benvenuta Tina dal ventottesimo canto in poi abbiamo una terza parte che non è proprio il purgatorio è il paradiso terrestre ed è dal ventottesimo canto fino alla fine fino al trentatresimo e qui abbiamo anche l'arrivo di Beatrice ecco quindi questo grosso modo è la struttura il purgatorio è la parte centrale ripeto dal canto decimo al canto ventisettesimo sono le sette cornici dove le anime purgano i sette peccati capitali così ordinati superbia invidia iracondia acidia avarizia gola lussuria c'è un alleggerimento della pena della gravità del peccato e l'uso proprio la parola gravità nel senso proprio anche di grave come pesante ci sono dei peccati più pesanti e dei peccati più leggeri è una logica capovolta rispetto a quella dell'inferno nell'inferno i primi gironi che che attraversavamo erano i gironi diciamo più dove c'era il peccato più lieve i peccati di incontinenza lussuria gola avarizia e poi pian piano scendendo fino ai peccati tremendi di frode poi fino ad arrivare al tradimento ai traditori gli stessi peccati che più allontano da dio più noi sprofondiamo nel cuore ghiacciato infernale della terra più noi ci allontaniamo da dio più noi saliamo sul monte del purgatorio più noi ci avviciniamo da dio e quindi è logico che il primo peccato dell'inferno sia la lussuria e l'ultimo peccato dell'inferno del purgatorio sia la lussuria tutto torna perché appunto siamo in questa logica rovesciata sono due coni in qualche maniera che noi potremmo quasi provare a sovrapporo a fare delle delle figurazioni strane il peccato più grave nel senso di più pesante e poi capiremo anche questa pesantezza come è resa è il peccato di superbia ed è una new entry nel mondo dantesco perché se voi ci pensate bene in tutto l'inferno noi non abbiamo mai trovato il giroden dei superbi noi non abbiamo mai trovato superbi e invidiosi e questo è strano un po come la vedo io è che di per sé tutti i peccatori dell'inferno sono di fatto dei superbi o degli invidiosi non pentiti che poi hanno declinato la loro superbia o la loro invidia in varie forme di peccato quindi potremmo dire in qualche maniera lussuria più superbia senza pentimento uguale pena da inferno lussuria con pentimento senza questa componente superba uguale purgatorio questa è una formulina che mi sono inventato io che magari non ha una grande attendibilità però di fatto non è tanto il punto del peccato lo dico spesso e torno a ridirlo è il problema se questo peccato ci allontana o no da dio se il peccato non allontana da dio di per sé non è un problema è un problema se il peccato allontana da dio la superbia è un peccato che tendenzialmente allontanerebbe molto è aversio allontanamento da dio cioè la superbia paradossalmente non è il voler imitare dio ma il volersi allontanare da dio e di per sé lo vedremo subito è un è un movimento contro natura il movimento naturale dell'uomo è un movimento che volge all'amore e quindi volge verso dio di per sé la superbia e il peccato sono movimenti che ci allontanano fanno deviare il nostro cammino quindi dicevo la superbia è una new entry però ecco è presente nel purgatorio quindi c'è una possibilità anche per i superbi di essere beati perché questi superbi appunto come tappa del loro cammino del loro percorso se pentiti in qualche maniera possono avvicinarsi dio anzi potrei dire quasi paradossalmente e questo è il caso di dante che la superbia aiuta forse anche in certi versi ad arrivare a dio se dante non fosse stato un superbo non avrebbe scritto la commedia e quindi non ci avrebbe dato la porta per accedere a dio riccardo giustamente commenta superbo è infatti capaneo vanni fucci però mi verrebbe da dire che trasversalmente ulisse è un esempio di superbia lucifero è sicuramente il primo dei superbi e lo vedremo in questo canto quindi questa è la situazione questa la superbia è il peccato che appare in chiave sublimata trasfigurata pronta per appunto trasformarci e portarci a dio ma di per sé è il peccato più grave e ripeto più grave in quanto più pesante e capiremo che cosa vuol dire ai canti i canti dedicati a alla cornice del del della superbia sono i canti decimo undicesimo dodicesimo noi oggi proveremo a farli tutti e tre provere se giovanna proveremo a fare dei pezzettini perché per farvi capire un po come funziona questo purgatorio il meccanismo un po funziona per tutte le altre cornici chiaramente con delle variazioni perché dante non è mai monotono non è mai uguale a se stesso è sempre coerente ma non è mai uguale però il sistema la logica è questa nel mese di giugno che c'è un po di caldino proporrò la cornice dei lussoriosi dove vedremo più o meno che la logica è sempre la stessa anche se è un canto che vedrete sono due canti assolutamente diversi e meravigliosi sì sì riccardo scusa avevo capito la parola superbia appare in quel contesto assolutamente sì sì l'avevo capito forse ho citato male il tuo messaggio di si è superbo e vanni fucci superbo e capaneo assolutamente allora dante dicevo e virgilio lasciano dietro le spalle la spiaggia dell'anti purgatorio la spiaggia dei negligenti superano una prima porta dove c'è questo portinaio che è un angelo poi se ho tempo dirò due parole sugli angeli del purgatorio e questo angelo incide sulla fronte di dante le sette pe pronunciato alla medievale pe di peccato c'è sette pe di peccato sulla testa sulla fronte e inizia appunto il suo cammino che è un cammino di alleggerimento di alleggerimento quasi dovessimo mollare la zavorra fossimo in una mongolfiera perché perché i peccati ci trattengono alla terra mentre noi dobbiamo andare spingerci in maniera inarrestabile verso dio che è il centro gravitazionale a cui noi dovremmo essere attratti questo è l'amore ma io direi che partiamo con la prima lettura poi fummo dentro al soglio della porta che il malamor dell'anime disusa perché fa parer dritta la via torta e qua abbiamo esattamente quello che vi stavo dicendo hanno attraversato la porta quindi sono entrati nel purgatorio e abbiamo questa bellissima definizione del peccato il male amore il malamore l'amore ma non è neanche un amore malato è un amore deviato che fa sembrare dritta una via storta in un altro punto della commedia dante dirà per definire il peccato il mare dell'amore il peccato non è un problema di odio o di male è un problema di amore mal gestito ma io userei la parola magnifica che usa dante cioè torto storto e qua siamo già nella selva oscura perché abbiamo una diritta via che fa parer diritta la via torta dante nella selva oscura aveva smarrito la diritta via e ripeto dante è un superbo e lo sa nel canto tredicesimo dante dirà io temo che dovrò rimanere un po nella cornice dei superbi ma glielo dice già caronte più lieve legno convien che ti porti chiaramente dante si auto destina a farsi un po di purgatorio ma il peccato che dante riconosce per sé è quello del del della superbia sonando la sentì essere richiusa quindi la porta viene richiusa e se io avessi gli occhi volti ad essa qual fora stata il fallo degna scusa dante entra nella nella prima cornice sente il portone che si chiude e se io mi fossi girato indietro che scusa avrei avuto a questo mio fallo perché perché l'angelo portinaio nel canto nono del purgatorio dice a dante e virgilio non dovete voltarvi cioè in sostanza non andate a fare l'errore di orfeo dante è un bello orfeo tra l'altro dante ha cinque lettere e orfeo ha cinque lettere dante ama beatrice orfeo ama euridice beatrice fa rima con euridice beatrice ed euridice hanno lo stesso numero di lettere quindi proprio tutto torna come sempre nella commedia dante è un novello orfeo però non è un dante che cerca di salvare la propria donna è la propria donna che sa ci siamo sì mi state vedendo è successo un qualcosa che non ho capito mi sembra di sì per cui praticamente non voltatevi indietro a questo punto non dobbiamo voltarci indietro allora capite che l'amore torto non voltarti indietro è un problema di direzione è un problema di orientamento dove oriento il mio amore se dovessimo fare la catechesi quelle cose che brini che che piacciono tanto alle buone alle famiglie alle famiglie sane e corrette cioè troviamo trovare la morale della storia io direi dove orientiamo il nostro amore ma dante ce lo dà la risposta orientiamo il nostro amore alle stelle scegliamo cose che ci possano far essere eterni ma andiamo avanti noi salavam per una pietra fessa una pietra rotta che si muoveva ed una e d'altra parte siccome l'onda che fugge e s'appressa è strana questa immagine loro si muovono in un sentiero con la pietra rotta e sembra che ci sia questo movimento come un'onda che va e viene c'è uno strano movimento di percezione e come sempre in dante le cose non sono mai a caso perché perché il problema di percezione è un problema dei peccatori di superbia i peccatori di superbia hanno un problema grandissimo di percezione infatti sbagliano il tiro sbagliano clamorosamente il tiro giusto serena amare per elevarsi assolutamente però noi dobbiamo amare le cose giuste le cose dritte non le cose storte perché sennò facciamo confusione sennò noi pensiamo che sia dritto quello che è storto allora c'è questa immagine dell'onda noi siamo in una cosa rocciosa anche qua adesso lo so che finiremo mezzanotte però c'è questa immagine minerale di una pietra rotta e dante come sempre con la sua arditezza crea questa strana similitudine con l'acqua con un movimento fluido un movimento rigido corrisponde un movimento fluido questo movimento è il movimento di questa cornice e poi ci accorgeremo bene di che cosa io un po anticipo perché poi in realtà vi inviterei a andare a rileggervi le cose con tutto quello che vi avrò detto dopo perché perché dante è fatto così va riletto qui si conviene usare un poco d'arte cominciò io in accostarsi orquinci orquindi al lato che si parte dobbiamo usare un poco d'arte ma qui dante volutamente usa una parola ambigua la parola arte cioè dirgilio sta dicendo usiamo un po destreggiamoci un attimo in questa pietra che è scivolosa che è sfuggente come l'acqua ma guardate che siamo di nuovo nella dimensione metamorfica della selva tra le cose tra alcune cose suggestive che diceva benedetto croce della commedia la commedia inizia in una selva che non è una selva con delle fiere che non sono delle fiere cioè la selva è un luogo adesso gianni che si è dedicato tantissimo alla selva di incertezze metamorfiche è una selva ma poi una piaggia diserta è un deserto è una spiaggia non si capisce bene un mare è un luogo diciamo così sensorialmente confuso e qua siamo in questa situazione e virgilio dice usiamo un poco d'arte cioè stiamo attenti usiamo un po di tecnica ma la parola è arte e vedrete che questi tre campi parlano sostanzialmente di arte cioè parlano di un dio natura che si trasforma e diventa un dio artifex un dio artista insomma in questi tre canti che vedremo ci misuriamo niente po po di meno che con l'arte di dio diventa uno scultore che mostra la sua abilità di artista dio appunto un deus che è natura che genera natura a un dio che genera arte l'arte che supera addirittura la natura vado perché sarà lassù non era mossi i piedi nostri anco quando io conobbi quella ripa intorno che dritto di salita aveva manco esser di marmo candido e addorno di intagli sì che non pur policleto ma la natura li avrebbe sconti c'erano dei bassorilievi dei marmi candidi così intagliati così belli che non solo policleto e noi abbiamo la professoressa tra l'altro che ci potrebbe dire ben di più su policleto ma la natura stessa è la solita questione tra natura e arte che vince dio vince sulla natura e sull'arte dio vince tutto e che cosa vede dante in questi due in questi due in questi bassorilievi scusate l'angel che venne in terra col decreto della molt'anni lagrimata pace caperse il ciel del suo lungo divieto dinanzi a noi pareva sì verace quivi intagliato in un atto soave che non sembiava immagine che taccia che rogna che mi son preso con sto canto allora la prima cosa che vede dante è l'annunciazione l'arcangelo gabriele e maria allora questo schema come vi dicevo è uno schema che noi vedremo per tutte sette le cornici noi ogni volta che entriamo in una cornice vedremo esempi di virtù contraria al vizio che stiamo espiando cioè nei superbi vedremo esempi di umiltà nell'invidia vedremo esempi di caritas nell'iracondia vedremo esempi di mansuetudine eccetera 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 esempi che potrebbero essere del mondo cristiano del mondo pagano del mondo biblico del mondo cristiano del mondo pagano d'accordo o del mondo o della storia poi incontra di solito i personaggi e poi ci sono esempi di vizio per cui noi vedremo in questa carellata di tre canti la virtù dell'umiltà e esempi di vizio punito in ogni cornice il primo esempio è sempre maria maria è la dea che incarna tutte le virtù contraria al peccato è umile e amorevole e mansueta non è avara e generosa e sollecita non è non è golosa ed è casta e vergine questa è maria a giugno io farò un incontro sulle idee del purgatorio ovviamente grande spazio avrà maria maria che è la dea ex macchina di tutta quanta la vicenda se dante sta facendo il suo viaggio è per maria ma guardate qua l'annunciazione ci viene descritta in una maniera che per me è commovente l'angelo che venne in terra col decreto della molt'anni lagrimata pace cioè di poter fare finalmente una pace lagrimata cioè finalmente sofferta ha perse il cielo del suo lungo divieto il cielo si aprì maria ecco lei che si apre è la porta del cielo e jano a cieli che si apre e fai rompere nel mondo e nella vita l'amore il sacro dio entra nella nostra vita entra nella storia perché maria si apre e dinnanzi a noi pareva così verace questa immagine qui vintagliato in un atto soate che non sembrava immagine che tace sembrava e qua iniziamo coi fuochi d'artificio che l'immagine stesse parla parlando giurato si seria che il dicesse ave quindi è un'immagine parlante perché i vera immaginata quella cad aprir l'alto amor volse la chiave e di nuovo maria ecco lei che apre l'alto amore e aveva in atto impressa esta favella ecce ancilla dei propriamente come figura in cera si suggerita siamo ovviamente nella dimensione della del mirabiglia del della meraviglia del miracolo dante sta inventando il cinema sono immagini parlanti ma vediamo che sono parlanti anche se noi leggiamo il testo è tutto parlante perché all'interno di questa di questo te noi vediamo nascosto allora chiaramente c'è suave ave chiave c'è ave che torna d'accordo però c'è un'ivera c'è un di nuovo qualcosa che ritorna poi c'è un ave nascosto nella parola favella ave di avea d'accordo avea di nuovo c'è ave nascosto insomma ave non solo è detto da maria ma addirittura è nascosto dentro queste parole e stiamo attenti perché qua siamo nel girone dei superbi e quindi tra i superbi nella cornice dei superbi quindi nella con i superbi avremo sicuramente anche ad amo ed eva e ave al contrario è eva e questo era un gioco di parole che avevano ben presente gli uomini gli uomini medievali perché maria ed eva in qualche maniera sono due facce del femminino però vi accorgete che questo ave è nascosto anche nel testo e questo ci tornerà quindi abbiamo un'immagine parlante ma è parlante anche nel testo con questo ave 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 che in qualche maniera ritorna a questi giochi di parole per chi mi mossi col viso e vedea di retro da maria da quella costa onde m'era colui che mi movea un'altra storia nella roccia imposta perché io varcai virgilio e femmipresso cioè dante vede un'altra cosa sta vedendo maria ma c'è qualcos'altro che lo sta incuriosendo quindi addirittura barca virgilio e va a vedere era intagliato lì nel marmo stesso lo carro e vuoi traendo l'arca santa per chi si teme ufficio non commesso e qua abbiamo un'immagine invece del vecchio testamento e c'è l'immagine della traslazione del trasporto dell'arca dinanzi pare agente tutta quanta partita divisa in sette cori a due miei sensi faceva dire l'uno l'altro si canta vedete che queste immagini sono immagini parlanti sono immagini muoventi ma non solo similemente il fumo degli incensi che vi era immaginato gli occhi e il naso al sì e al no di scordi fensi cioè non solo queste a questa processione che sta passando con l'arca santa sembra parlare ma dante sembra addirittura sentire il fumo dell'incenso cioè una visione non solo una visione in technicolor ma è una visione in odorama cioè dante sta creando davvero una situazione ma fate pensare siamo nel 1300 cioè 700 anni fa ma cosa cavolo può aver ispirato niente perché dio gliele ha dettate queste cose non c'è nessun'altra spiegazione possibile quindi abbiamo prima maria che sembra dire ave e ave nascosto tra le indecasillabi in altre parole poi abbiamo quest'immagine che poi vedremo è l'immagine di david ma abbiamo già fatto l'incontro con david col mio maestro amico roberto leopardi david che danza e questa processione oltre a sembrare questi due cori che cantano sembra addirittura sentire l'odore dell'incenso ma l'odore dell'incenso è in armonia con le parole per cui abbiamo un corto circuito sensoriale siamo in piena dimensione mistica corto circuito mistico torniamo sempre a quell'uomo sinestesico che dante cerca quarta dimensione giusto assolutamente li precedeva il benedetto vaso e quindi all'arca trescando alzato l'umile salmista e più e men che re era in quel caso qua sta danzando david umile ed è più al tempo stesso e meno che re non mi faccio tutto il discorso su david se volete a breve caricherò comunque sulla mia pagina c'è la diretta tra me e roberto a breve la caricherò anche su youtube di contro e figiata ad una vista ad un gran palazzo mi colla mirava ammirava siccome donna dispettosa e trista i mossi piede loco dove io stava per avvisar da presso un'altra storia cioè davvero sembra quasi che queste basso rilievi e siano in movimento quasi dante fosse su un tapirula c'è tutto questo movimento e quindi c'è maria poi dietro maria vediamo david e poi dietro micol biancheggia un'altra immagine e anche qua qua siamo nel capolavoro qui vera storiata l'alta gloria del romano principato il cui valore mosse gregorio alla sua gran vittoria l'impero romano a offre il fianco a una grande vittoria di papa gregorio perché il papa gregorio riesce a fare una cosa impressionante cioè riesce a render santo addirittura un pagano io dico di traiano imperatore e una vedovella lì era il freno di lacrime atteggiata e di dolore c'è quindi c'è questa la vedovella che lo trattiene intorno a lui pare accalcato e pieno di cavalieri e l'aquile nell'oro sovresse in vista il vento si moviano cioè qua abbiamo addirittura le e i vessilli che svolazzano al vento ma stiamo parlando di marmo capita adesso quando lui entrava nella pietra fessa che sembrava scivolosa come l'acqua qua è tutto un discorso di percezione la misarella la vedovella intra tutti costoro per sembrava dire quindi c'è traiano che sta per partire in battaglia con tutto l'esercito e una vedovella lo ferma quindi c'è un uomo in un atteggiamento superiore e una vedovella che gli dice signore fammi vendetta di mio figlio che è morto on dio ma coro ed egli a lei rispondere ora aspetta tanto che torni guarda stai fermati un attimo io torno fra poco e quella signor mio come persone in cui dolor si affretta se tu non torni cioè se tu muori e dei che fia dov'io la ti farà ed ella l'altro i bene a te che fia se il tuo metti in oblio cioè come puoi mettere il bene se metti il bene degli altri se metti in dimenticanza il tuo ondelli orti conforta che i convene che io solva il mio dovere anzi chi muova giustizia vuole e pietà mi ritene addirittura qua abbiamo un dialogo facciamo un minuto di silenzio ci commuoviamo io non so davvero è impossibile commentare questa cosa siamo partiti tratto con un crescendo impressionante io ve lo ricordo dante scriveva in esilio dante scriveva in una situazione di paura di miseria di fatica e di sofferenza e riesce a generare una bellezza così gioiosa perché queste sono immagini di bellezza gioiosa c'è dante entra a pensare nel punto di vista di dio e prova a fare un lavoro di medesimazione la stanislavski se io fossi dio e dovessi dipingere che cosa verrebbe fuori eccola qua cioè e vince la natura e vince l'arte e questa è un'azione superba c'è dante è superbo perché lui si immedesima in dio e ci dimostra la superba arte di dio maria e l'angelo dove ci sembra che lei dica ave la processione dell'arca e il fumo dell'incenso e il sieno e addirittura davide che sembra danzare terzo i vessilli che svolazzano di traiano e addirittura c'è un dialogo avete presente quei meccanismi dove io da bambino avevo quelle cose che se scorrevi velocemente quei libretti fotogramma per fotogramma avevi veramente mettevi in movimento qualcosa c'è dante ha inventato l'animazione è un cartone animato è davvero impressionante se noi c'è veramente una bellezza che ci ci come come possiamo dopo il 1300 come si può fare ancora arte dopo che arriva questo e fa una roba del genere allora capite capite perché io mi arrabbio perché perdiamo tutto sto tempo con l'inferno nell'inferno voi non trovate una cosa così bella non la trovate una cosa così bella trovate delle cose bellissime ovvio ma non trovate una cosa così bella altra cosa che mi interessa farvi notare la parola giustizia francesco dice giustizia grande motore certo assolutamente però questa giustizia teniamola bene a mente perché noi questa giustizia l'abbiamo trovata la prima volta nella porta dell'inferno c'è questa scritta e in questa scritta vediamo la parola giustizia ma attenzione chi è l'autore della scritta per me si va nella città dolente per me si va nell'eterno dolore cioè chi è che ha creato questa che ha inciso l'epigrafe della porta dell'inferno dio quindi questa non è la prima volta in cui noi vediamo l'arte di dio e la seconda volta noi vediamo l'arte di dio sempre tutta l'inferno è arte di dio lo vediamo anche in inferno 15 però una scritta parlante noi la vediamo l'avevamo già vista della porta perché la porta sembra parlare quindi nella porta dell'inferno abbiamo una porta parlante ed è l'arte di dio che l'ha incisa quando riccardo vi parlerà di inferno 11 troverete anche lì una tomba parlante e di nuovo ci sarà la parola arte la tomba la lapide del papa anastasio anastasio giusto riccardo anastasio non mi ricordo più ma attenzione e compare la parola giustizia in una porta parlante compare la parola giustizia in un basso basso rilievo parlante nel canto diciannovesimo del paradiso le anime dei beati comporranno nel cielo una scritta diligite giustizia e nella parola giustizia la m diventerà un'aquila e di nuovo quindi in delle scritte parlanti moventi apparirà la parola giustizia 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 sempre legato a delle parole in movimento a delle immagini in movimento traiano è citato in questo episodio traiano è un'anima del cielo di giove dentro queste anime turbinanti per cui uno studioso robert hollander dice ma che forse anche la porta dell'inferno non sia in qualche maniera un arco trionfale tipo l'arco di traiano dove dante entra in qualche maniera detto questo arriviamo a questa terzina che è meravigliosa colui che mai non vide cosa nuova guardate la definizione di dio dio è colui che non vide mai una cosa nuova adesso io vi sfido a trovare una definizione più bella per parlare di dio colui che mai non vide una cosa nuova certo perché lui è sempre prima di tutto produsse esto e qua c'è questa definizione meravigliosa visibile parlare novello a noi perché qui non si trova qua è il dante autore qui nella terra non c'è il visibile parlare dopo l'abbiamo inventato dopo cioè il cinema è il visibile parlare l'animazione ma non è neanche ma non è neanche il cinema ha inventato internet ha inventato il computer ha inventato il mondo virtuale quindi quando dio ira fuori lo scalpello e il martello inizia a fare lo scultore genera questa cosa meravigliosa avete presente le figurine le carte di harry potter che sono quelle carte che si muovono ma siamo in questa dimensione qua siamo in una dimensione di meraviglia di magia tre esempi il primo è maria maria umile che accetta ecce ancil dei il secondo è davide che più e meno che re perché umilmente danza una danza scomposta quasi con si tira sulla gonna le fod e il terzo e traiano in una posizione superiore accetta per la vedovella di fermare la battaglia e andare a vendicarla per questo traiano imperatore pagano grazie all'intercessione di papa gregorio la vittoria appunto della fede diventa addirittura cristiano e infatti lo troveremo in paradiso l'umiltà è qualcosa che spacca così le leggi di dio per cui dio rende un pagano beato infatti nel cielo della giustizia troveremo rifeo troiano ma perché l'amore di dio apre e infrange tutte le regole apparenti che noi avevamo imparato nell'inferno o superbi cristiani miseri lassi che della vista della mente inferni fidanza avete nei retrosi passi eccolo qua il problema superbi cristiani che state qua ad aver fiducia dei retrosi passi dei passi indietro vi ricordate orfeo che non si deve voltare non dobbiamo voltarci non dobbiamo perder tempo in paradiso 11 dirà o insensata cura dei mortali ma perché perdiamo tempo in queste inizie noi se i superbi non sono quelli che guardano in alto i superbi sono quelli che guardano in basso i superbi sono quelli che guardano dalla parte sbagliata i superbi sono quelli che guardano nella direzione storta e qua un'altra cosa meravigliosa non v'accorgete voi che noi siamo vermi nati a fare l'angelica farfalla è questo il principio della nostra umiltà noi siamo vermi ma diventeremo angelica farfalla dionigi l'oreopagita diceva è inutile definire cristo usando immagini grandiose era un autore mistico che dante amava è inutile dire che cristo è re è luminosa è vincente cristo diceva è un orso è una pantera cristo è un vermo cerchiamo il divino nell'inatteso cerchiamo il divino nel piccolo cerchiamo il divino dove non ce l'aspettiamo perché noi siamo questo noi siamo vermi nati a formare l'angelica farfalla che vola alla giustizia senza schermi di che l'animo vostro in alto galla poi siete quasi antomata in difetto siccome vermo in cui formazione falla capiamo proprio un problema di crisalide di embrione come per sostentar solaio tetto per mensola talvolta una figura si vede giugner le ginocchia il petto qua dante sta iniziando a vedere le prime anime ma le fraintende l'acqua e vede queste qua che sono schiacciate hanno il petto attaccato le ginocchia la qual fa del non ver vera rancura nascere in chi la vede e di nuovo c'è questo problema tra quello che ti sembra vero e quello che non sembra vero vi dicevo la superbia è un problema di percezione ma se voi ci pensate oppure ve lo rileggete quando dante vede la prima volta i giganti inferno 31 a dante sembrano delle torri non li riconosce come giganti e poi addirittura anteo che sembra la torre della garisenda ma addirittura nel canto 34esimo quando dante vede per la prima volta lucifero non gli sembra lucifero li sembra un mulino cioè i giganti e lucifero che sono il simbolo della superbia in assoluto e lo vedremo nel canto successivo ce lo vedremo fra due canti anche questi sono dentro un problema di percezione e dante ha un problema di percezione perché vede un'immagine una figura ma non riesce a definirla vero è che più e meno erano contratti secondo che avviene più o meno addosso e qual più pazienza avea negli atti piangendo parea dice più non posso dante ha mi ero dimenticato di mettere la odio scusatemi vabbè vero è che più e meno erano contratti secondo che avviene più o meno addosso e qual più pazienza aveva negli atti piangendo parea dicer più non posso sembravano dire non ce la faccio più cioè dante vede queste figure che sono le prime anime incontriamo finalmente le prime anime del purgatorio ma non riesce a riconoscerle cioè le scambia come se fossero dei telamoni delle cariatidi quelle statue che reggono nelle chiese avete presente che reggono le in qualche maniera le colo stavo giocando scusate il visibile parlare che reggono le colonne quindi vede questi telamoni schiacciati da questi massi ma non riesce a riconoscerli e questi che potrebbero parlare sembra che dicono più non posso cioè il marmo intagliato da dio parla gli esseri umani sembra che parlino la grandezza di dio è che una sua scultura è più verosimile della vera realtà e questo così si chiude in questa maniera sorprendente il canto decimo avete visto con che andato andando quindi preparatemi no ma adesso dovrei andare un pochino più veloce anche se in realtà la cosa che ci aspetta è così bella che devo andare avanti inizia il canto undicesimo colpo di scena va o padre nostro che nei cieli stai dopo tutta questa creazione technicolor odorama sinestesica impressionante dove l'arte di dio è più vera del vero della natura inizia il canto undicesimo che lui vede queste anime schiacciate che sembrano dire più non posso e si apre con il padre nostro impressionante padre nostro giusto dio pigmalione assolutamente il padre nostro la prima preghiera che sentiamo nella cornice dei superbi e quando faremo la cornice dei lussuriosi vedrete che guido guinizelli dirà dante di per me un pater nostro chiuderà e sarà la preghiera che apre e chiude i superbi che sono sempre stati attenti al loro nome si devono confrontare con il nome di dio e c'è questa cosa meravigliosa perché dante fa tutto il padre nostro il pater nostro con questo principio prima in decasillabo traduzione in decasillabi danteschi del padre nostro e i due in decasillabi successivi sono una spiegazione è una preghiera con spiegazione provo a leggerla tutta quanta perché è bellissima o padre nostro che nei cieli stai padre nostro che sei nei cieli non circoscritto è nei cieli ma non è chiuso ma per più amore che ai primi effetti di lassù tu hai laudato sia il tuo nome il tuo valore sia santificato il tuo nome da ogni creatura come degno di rendere grazie al tuo dolce vapore dante superbamente odio scusate dante superbamente ha sia santificato il tuo nome fa laudato sia il tuo nome dante sovrappone al padre nostro il cantico delle creature di san francesco san francesco che è l'umile per eccellenza è presente in questo pater nostro c'è dante contamina ma anche impreziosisce il padre nostro e lo trasforma attraverso le parole di san francesco guardate che laudato sia il tuo nome è questo il nome che dobbiamo cercare non il nostro nome ma giusto per fare un po di numerologia qua siamo al canto undicesimo del purgatorio laudato sia il tuo nome è san francesco canto undicesimo del paradiso canto dedicato a san francesco come sempre i conti tornano venia per noi la pace del tuo regno che noi ad essa non potenda noi se la non viene con tutto nostro ingegno venga il tuo regno sia fatta la tua volontà venia per noi la pace del tuo regno la volontà di dio è pace guardate che molti hanno criticato questa traduzione il padre nostro molti hanno detto che qua dante gioca veramente in maniera superba ma siamo nel purgatorio ragazzi non siamo nel paradiso dante in maniera omeopatica cura la superbia con la superbia è antroposofia non so come come definirla è tantrico non è venga il tuo regno venga la pace del tuo regno che noi da solo non ce la possiamo se non viene con tutto nostro ingegno ma l'ingegno è una parola pericolosa perché ingegno è la parola della superbia canto decimo dell'inferno vero riccardo ma tu che vai per altezza di ingegno mio figlio ov'è cavalcante padre e gli eretici sono dei superbi e tra quello c'è la specularità nel canto dell'inferno abbiamo gli eretici qua abbiamo i superbi nel canto decimo del paradiso abbiamo i sapienti sono tutte forme di superbia una forma malata una forma che sta per essere curata una forma sublimata sono forme di superbia assolutamente e l'ingegno è il grande problema di dante l'ingegno più freno l'ingegno che non soglio quando dante vede ulisse domenica riccardo ha fatto una bellissima diretta sul canto di ulisse l'ingegno ma anche la navicella del mio ingegno siamo sempre a rischio di superbia per altezza di ingegno noi non ce la facciamo da soli per altezza di ingegno come del suo voler gli angeli tuoi fan sacrificio a te cantando l'osanna così facciano gli uomini dei suoi da oggi a noi la quotidiana manna dacci oggi il nostro pane quotidiano qua dante ha un'invenzione impressionante la quotidiana manna ci riporta l'esperienza del deserto di 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 mosè tra il trono lui deve fare una rima con osanna però non è più il pane super sostanziale è una quotidiana manna ma è una manna che dura sola manna ci sono bellissime pagine di eri de luca la manna pioveva il tanto giusto ed era quotidiana non c'era uno spreco non c'era uno sperpero la manna non la potevi mettere da parte è un dio che ti ama così tanto che ti dà il giusto che ti basta sanza la qual per questo aspro diserto a retro va chi più di gir si affanna e come noi lo mal che avvenso offerto perdoniamo a ciascuno e tu perdona benigno e non guardare lo nostro merto nostra virtù che di leggersi adona non spermentare con l'antico avversaro ma libera da lui che si la sprona guardate io penso che sia la traduzione più bella del padre nostro il padre nostro è bellissimo è bellissimo in greco è bellissimo in latino qui dante però fa veramente c'è tante fa la la l'omelia c'è ce lo spiega quest'ultima preghiera e qua c'è una coda signor caro già non si fa per noi che non bisogna ma per color che dietro a noi restano non stiamo pregando per noi stiamo pregando per gli altri qua inizio a incontrare le prime anime ne facciamo velocemente due perché qua veramente il tempo corre e se io non fossi impedito dal sasso che la cervice mia superba doma onde portar conviemmi il viso basso cotestica ancora viva e non si noma guarderei io per vedersi il conosco e per farlo pietoso a questa somma qua sta parlando quest'anima che è impedita dalla cervice superba da un sasso quindi contrapasso logica del contrapasso il purgatorio funziona come come l'inferno sei stato in vita superbo hai osato alzare lo sguardo ma vedrete che in realtà la superbia non è chi alza lo sguardo è chi sbaglia lo sguardo e quindi viene schiacciato io cercherei di vedere chi sei gli dice l'anima io fu latino e nato d'un gran tosco guiglielmo aldobrandesco fu mio padre non so se il nome suo giamai fu vosco l'antico sangue e l'opera e leggiadre di miei maggior mi fersi arrodite che non pensando alla comune madre ogni uomo ebbe in despetto tanto avante io sono umberto e non pura me danno superbia fa che tutti i miei consorti a e la tratti secco nel managgio e qui conviene che questo peso porti questo aldebrandesco umberto aldebrandeschi figlio di guiglielmo aldobrandesco diciamo così è un tipico esempio di superbo che sta si sta impegnando cioè non è un superbo da dieci elode ma noi infatti incontreremo sempre delle anime nel purgatorio incontriamo le anime caduche e anime non proprio perfettamente integrate e questo qua diciamo è un superbo ma insomma ne ha ancora di strada da fare si è ancora dimenticato che deve lodare il nome di dio che è solo il nome di dio quello su cui noi ci dobbiamo misurare e quindi questo è un tipo di banagloria anzi di arroganza aristocratica mio padre i nomi natali lei non sa chi sono io tutte queste cose in cui noi siamo perfettamente dentro questo problema del nome che volete che è un problema che affligge anche la cultura cioè la cultura è tempestata da questi del nome allora dobbiamo chiamare cacciari dobbiamo chiamare galimberti dobbiamo chiamare verona abbiamo un festival che si chiama festival della bellezza e sono sempre quelli ma perché perché il nome che conta non importa ogni anno abbiamo sgarbi non importa di quello che dirà noi seguiamo il nome siamo attratti dal nome siamo falene che vanno contro la fiamma del nome ma il vero nome è il nome di dio su cui noi ci dobbiamo misurare allora questo omberto insomma è ancora un po di strada la deve fare ma mi piace a me questa mi piace a me mi piace questa umanità ancora un po insomma più simile a noi e dopo dante riconosce un altro ma non sei tu oderisi l'onor da gobbio l'onore di gubbio l'onore di quell'arte caluminar chiamata è in parisi qui abbiamo un miniatore oderisi da gubbio frate di selli anche qua una cosa bellissima l'ho già detta altre volte le anime del purgatorio sono delle anime educate si chiamano fratelli ritorniamo un'umanità solidale fraterna un'umanità bella davvero la smettete di leggere l'inferno la smettete di dire che è bello ulisse che è bello paolo e francesca basta no non non sono belli sono belli ma non sono non c'è cico è amor torto ci fanno sbagliare la strada è questo la strada giusta quindi oderisi l'onore di gubbio che pennele più ridono le carte che pennelleggia franco bolognese l'onore è tutto il suo e mio in parte ben non sarei io stato si cortese mentre che io vissi per lo gran disio dell'eccellenza ove mio core intese di tal superbia qui si paga il fio e ancora non sarei qui se non fosse che possendo peccar eccolo mi volsi a dio ecco la strada giusta o vanna gloria dell'umane posse con poco verde sulla cima dura se non è giunta delle tati grosse allora qua vedete c'è l'evoluzione del pensiero di del del nome il nome entra in crisi non chiameremo più tra 30 anni non chiameremo più sgarpi non chiameremo più questi che chiamiamo sempre per il loro nome perché ci sarà qualcun altro e quindi questo verde che pian piano cede il colore a qualcun altro e quindi io sì ero grande ai miei tempi dice o derisi ma adesso ce n'è già uno meglio di me e ce ne sarà uno meglio un domani perché è così che funziona c'è sempre qualcuno che supera un altro sì francesco è vero senza le esperienze dell'inferno non potremmo volgersi verso dio riconosce lo sì però dedicateci un terzo della vostra vita dopo due terzi purgatorio paradiso allora mi sta bene se no rischiamo di confondere le cose credeteci ma bue nella pittura tenerlo campo e ora giotto il grido eccolo qua il grido quando gianni vacchelli dice che la commedia è un grido un grido che ci deve risvegliare tutti quanti l'arte è un grido quello che abbiamo visto prima è un grido contro ogni logica dio quando il rompe con la sua bellezza lo fa gridando sicché la fama di colui è scura così ha tolto l'uno all'altro guido la gloria della lingua e forse è nato chi l'uno e l'altro caccerà del nido come prima pensava cimabue poi fu sostituito di giotto guardate adesso che non fate mille commenti in difesa dell'inferno perché mi irrito non dovete vedermi arrabbiato state state sulla mia linea e come cimabue venne superato da giotto ci fu anche chi superò la gloria della lingua a uno e l'altro guido e qua non entro tanto nella questione secondo me non è non c'è dubbio tra guido guinizelli e guido cavalcanti forse è arrivato un altro un piccolo uccellino di cuculo che caccia dal loro nido questi due e ovviamente questo è dante allora riccardo ammonito primo ammonimento cartellino giallo allora uno dirà ma certo che dante in questa cornice dei superbi non è proprio umilissimo prende un padre nostro e lo trasfigura e poi addirittura si pone come colui che supera i due più grandi poeti dell'epoca cioè guido cavalcanti e guido guinizelli ma se ci fermassimo a questo canto qua vi darei ragione ma dante ogni volta che sta per arrivare sul limite della superbia ha con sé un parafulmine che si accende e questo parafulmine attira diciamo così è l'antidoto per stornare il rischio della ibris del di questa superbia di questa tracotanza ante nella cornice dei superbi sta super beggiando una cosa che non ho letto però è che dante per poter parlare con i superbi si deve abbassare cioè abbassa la testa quindi in qualche maniera anche lui vive il contrapasso e questo lo vedremo cioè dante vive subisce il contrapasso cosa che non avveniva nell'inferno non è che dante nell'inferno subiva il contrapasso dante era immune dal contrapasso dell'inferno nel purgatorio invece dante partecipa al percorso di ispiazione facendo un po di fatica e quindi lui abbassandosi con la servizia per parlare al livello di queste anime purgatoriali di fatto si sta umiliando ma come vi dicevo appena dante entra nella superbia appena dante inizia a usare un lessico superbo immediatamente c'è il sistema che compensa cioè c'è la un sistema d'allarme e questo sistema d'allarme si chiama ulisse purgatorio 12 di pari come vuoi che vanno a gioco mandava io con quell'anima carca finché il sofferse il dolce pedagogo come i buoi vanno col gioco tenetela in mente perché poi vedrete un colpo di scena eclatante comunque è una citazione da matteo però tenetela lì io andavo con quell'anima carica insieme e qua c'è questa bellissima definizione di virgilio che vi dico tenete la mente al dolce pedagogo ma il dolce pedagogo mi disse lascia lui e barca che qui è buono con l'ali e coi remi quantunque può ciascuno pinger sua barca lascialo e barca che qui è buono con l'ali e coi remi quantunque può ciascuno pinger sua barca dei folli dei remi facemmo ali dei remi facemmo ali al folle volo la barca virgilio in questa frase apparentemente che non è molto fiorita gli sta usando esattamente le parole del folle volo d'ulisse dei remi facemmo ali al folle volo e c'è anche questo barca e guardate che anche questo barca a che fare con ulisse paradiso 27 dante finalmente si gira e li può per vedere tutta la storia tutto il cosmo e quando guarda la terra quello che vede è il varco folle di ulisse quindi dante stava insuperbendo e virgilio lo richiama all'ordine usando in maniera subliminale le parole di ulisse perfetto vedo tutti i commenti meravigliosi vado avanti come vi dicevo c'è questa bellissima immagine avvegna che i pensieri mi rimanessero chinati e scemi è bellissima cioè i pensieri restano chinati cioè come i corpi sono schiacciati chinati anche i suoi pensieri sono chinati e scemi sono manchevoli praticamente qua dante se prima aveva visto le immagini della virtù su dei bassorilievi e tra l'altro la domanda sa sarebbe anche questa se le anime dei superbi sono schiacciate da dei massi per cui non riescono ad alzare la testa come fanno a vedere i bassorilievi che ha visto dante cioè quei bassorilievi sono lì solo per dante o sono lì per tutti e qua francesco negroni se volessimo pensare percorsi iniziatici quindi che tutto questo si stia scomodando per dante ad usum dantis e quindi per noi perché dante siamo noi però dicevo adesso inizia una nuova sequenza di immagini intersiate sul pavimento e qua sono i vizi di superbia punita che dante calpesta che è un contrapasso addirittura nel contrapasso e questi vizi sono dodici ma questo è il canto dodicesimo vedea colui che fu nobil creato più che altra creatura giù dal cielo folgoreggiando scender da l'un lato il primo che dante vede è ovviamente lucifero lucifero è il primo superbo che ovviamente precipita ma come ho cercato di renderlo con questo enjambaman con questa inarcatura giù dal cielo folgoreggiando scendere noi vediamo nel cielo la scia vedea briareo questo è un gigante fitto dal telo celestial giacer dall'altra parte grave la terra per lo mortal gelo quindi da una parte vede folgoreggiando scendere questa è una citazione dal vangelo di luca e vedi satana scendere precipitare giù e dall'altra vede briareo i giganti sono per antonomasia simbolo della della superbia giganti appartengono sia il mondo mitico pagano i giganti che fanno l'assalto all'olimpo e e nimrod nembrot nembrotto che cerca di costruire la torre di babele sono sia il mondo biblico che il mondo pagano a questa immagine dei giganti come idea di smisuratezza e poi vedea timbre o vedea palla de marte armati ancora intorno al padre loro mirar le membra di giganti sparte quindi qua c'è questa centauro questa giganto machia e sono due terzine dedicate ai giganti e poi vedea nembrot e quindi qui abbiamo il gigante della torre di babele a piede il gran lavoro quasi smarrito cioè inizia a essere confuso inizia a entrare nella lingua babelica a riguardare le genti che insennar con lui super di fuoro e qua entriamo nel dramma dolente di miobe o miobe con che occhi dolenti vedea io te segnate in sulla strada tra 77 tuoi figli uomini senti miobe che osò superba dire che i suoi figli erano meglio dei figli di latona i figli di latona erano a polle diana e a polle diana dardeggiandogli li ammazzarono su tutti tra l'altro miobe gianni vacchelli ha fatto un video ultimamente sulla sua pagina youtube dove ci sono dei legami tra ugolino e giobbe un bellissimo video sarebbe interessante vedere i legami tra ugolino e niobe nel senso che ugolino che brancola cieco tra i figli ricorda proprio niobe che cieca sovrasta i corpi i corpi morti o saul e qua abbiamo addirittura saul come in sulla propria spada qui vi parevi morto in gel boè che poi non senti pioggia né ruggiada o folle aragne si vedea io te già mezza aragna trista in sugli stracci dell'opera che mal per te si fe mi fermo or petina mi sono ovvio non avete visto niente ovviamente quindi abbiamo vedea colui che fu nobile creato che poi il goreggiando scender già dal cielo vedete giù dal cielo folgoreggiando poi vedea briareo vedea 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 vi accorgete questa anafora vedea 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 che poi la anafora inizia a cambiare o o o o niobe o saul o folle aracne aragne aracne era la tessitrice superba che osò dire che la sua arte era migliore di quella di palla di atena e venne ci fu una gara tra le due e venne trasformata in ragno agli aracnidi grazie giovanna si va sto per concludere finisco fra pochissimo mi fermo un attimo su aracne aragne perché il sesto esempio di 12 quindi l'esempio centrale di questi 12 e di fatto aracne è un artista che si misura con l'arte di una dea e viene definita folle perché l'artista è folle perché l'artista vuole essere simile a dio e questa la sfida di dante nei canti dei superbi nella cornice dei superbi dante mette in scena l'arte di dio ma ogni artista è dio e ogni artista nella propria arte sfida dio e quindi è folle come folle era ulisse il gioco è nel riconoscerlo dante non è un finto modesto non è un falso modesto lui ha cacciato dal nido i due guidi ma poi sa in qualche maniera riconvertire tutto quanto proseguiamo oro bohama poi pian piano e poi mostrava ancora lo duro pavimento il pavimento mostrava come al cmeone al cmeone al meone sua madre fecaro parerlo sventurato addornamento mostrava come i figli si gettarono sovra sennacherib mostrava la ruina eccetera 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 mostrava 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 quello che mi interessa è di nuovo tornare al visibil parlare vedea 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 4 vedea o o o o 4 mostrava 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 4 mostrava e poi c'è questa troia a cui dedicata una terzina dove addirittura vediamo nella stessa terzina vedea o mostrava insomma quello che dante sta scrivendo quello che dante sta scrivendo con queste parole è un magnifico acrostico perché se noi vediamo quindi queste parole in verticale ci sono degli acrostici meravigliosi nella commedia antonio soro un dantista che a me piace molto magari mi seguirà non lo so e lui ha scovato due acrostici meravigliosi in un impurgatorio uno in paradiso 5 e uno in purgatorio 27 ma di quello vi parlerò io quando parlerò delle idee del purgatorio è una cosa bellissima impressionante comunque l'acrostico è se noi vediamo le parole mostrava vedeva 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 o o o o mostrava 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 se noi prendiamo le iniziali vieni fuori vomo la v di vedeva la o di o e la mo dimostrava vomo ma la v maiuscola in latino si leggeva tanto v quanto u e quindi venne fuori uomo la superba ilion la superba troia è dedicata alla chiusura di questo esempio quindi in qualche maniera dante scrive la parola uomo uomo che però se ci pensate etimologicamente è legato alla parola humus da cui deriva unis è proprio un precipitare quindi è questa la grande ambiguità l'uomo l'uomo deve ricordarsi di restare il modo che usa dante la tecnica che usa dante per fare questo è assolutamente spettacolare dante azzarda e si misura e si cimenta a davvero riprodurre l'arte di dio dante sta rischiando come aracne assolutamente sta rischiando come arac sta sfidando dio ma è un movimento necessario qual di pennel fu maestro di stile che ritraesse l'ombra e tratti chivi mirar farieno uno ingegno sottile eccolo qua il maestro è dio tra l'altro siamo partiti da delle immagini in movimento il visibile parlare dante prima del cinematografo e adesso siamo addirittura e questa eva ave nascosta nelle parole della prima immagine di virtù e quando chiudiamo ciclicamente quindi tre canti sono tra loro ciclici iniziavano con degli esempi di virtù poi abbiamo tre personaggi sono dimenticati provenzano salvani e poi abbiamo 12 esempi di superbia punita è tutto un multiplo di tre questi questi canti sono scanditi e sono esattamente a posizione di chiasmo esempio di virtù personaggi e esempi di vizio gli esempi di vizio sono dodici e questo è il dodicesimo canto arriviamo verso la conclusione or superbite via col viso altero figliuoli d'eva eccolo qua l'ave iniziale del primo esempio di virtù si conclude precipita in questo essere figli di eva ave eva allora adesso loro continuano a salire e incontrano un angelo il primo angelo l'angelo dell'umiltà che cancella la prima p dalla 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 fronte di dante a giusto come ma non ci avevo pensato come policleto il quale nella sua idea ponderata di bellezza umana aveva questo principio chiastico è vero c'è il corpo doveva avere delle caratteristiche per cui a un braccio piegato corrispondeva una gamba piegata a un braccio teso corrispondeva un braccio teso questo era il chiasmo eravamo partiti da policleto e in maniera chias mica grazie professoressa in maniera assolutamente dentro questo chiasmo dante costruisce una cosa che potrebbe fare impallidire oltre che policleto anche il marmo più bianco gli viene tolta la prima p dalla fronte qua abbiamo l'ultima immagine e dante è sorpreso perché non ha più questa questa e inizia essere più leggero cioè inizia ad alleggerirsi è sgravato peccato che lo rendeva pesante quando i p i pe che sono rimasi ancora nel volto tuo presso che stinti saranno come l'un del tutto rasi quindi quando saranno cancellati fierli i tuoi piedi dal buon volersi vinti che non pur non fatica sentiranno ma ti ha diletto loro essere supinti quando non sarai più appesantito dalle sette pe ma sono rasi cancellati tu addirittura inizierai a volare noi siamo angeliche farfalle che non volano perché appesantite da queste sette pe all'orficio come color che vanno con cosa in capo non da lor saputa se non che c'enni altrui sospecciar fanno perché la manna ad accertarsi aiuta e cerca e trova e quell'ufficio ad empie che non si può fornire per la veduta e con le dita della destra scempie trovai pur sai le lettere che incise qual dalle chiavi a me sovra le tempie a che guardando il mio duca sorrise e come fa quello che ha una cosa in testa e non sapeva di avercela e quindi inizia a fare così con la testa così feci io con la mano sulla fronte e mi accorsi che invece che avere sette pe ne avevo soltanto sei e quindi dante fa questa cosa proprio comica parleremo venerdì di dante puer e senex e qua il dante bambino che fa così hai una macchia dove ho la macchia ma questa cosa questo movimento in realtà è qua io vi lascio quest'ultima genialata dantesca è preso da una da un episodio della metamorfosi in cui questo cipo pretore romano sta per entrare a roma si guarda riflesso nell'acqua e vede che ha le corna che non è bellissimo guardarsi allo specchio e vedere di avere le corna e fa questo gesto con le mani però gli dicono che leggenda vuole che chi appunto ha le corna in testa entrando a roma sarebbe diventato re gli viene proposta passiamo nel tempo della repubblica romana gli viene proposta un'azione superba diventa puoi diventare re di roma allora lui non entra per umiltà non entra quindi pensate la genialata dante che adesso finalmente è umile perché si è tolto la p della superbia la p della superbia e come ci e fa lo stesso gesto come cipo romano pretore romano che vede le corna e non accetta quella corona e cosa fa cipo romano dice no io resto fuori da dalla città e allora il senato gli promette accetta e come dono gli dice va bene non sarai re ma ti promettiamo di avere tanta terra quanto tu potrai arare in un giorno con i tuoi vuoi di pari come buoi che vanno a gioco il canto si apriva con i buoi che arano il canto si chiude con questo uomo esempio di umiltà che con i suoi buoi ara un campo il canto si apriva con un virgilio dolce pega il pedagogo e il canto si chiude con un virgilio di fronte a un dante bambino tornato bambino che fa questo gesto che quindi in qualche maniera sorride torna a essere il maestro sorridente con questo sorriso bellissimo di virgilio io vi lascio spero che questa questo tour de force vi sia piaciuto e io lo so io ci metto un sacco di roba nelle mie dirette però insomma sono fatto così quindi vogliatemi bene giovedì alle 21 riccardo starnotti ci diletterà col canto undicesimo dell'inferno e venerdì 29 tornerò io insieme a gianni probabilmente sulla pagina di gianni e parleremo di dante puer e senex questo voleva soltanto essere l'esempio secondo me della grandezza di dante io spero che voi non le prendiate come cose estremamente erudite mi dispiacerebbe non è erudizione è che tante è davvero impressionante in ogni cosa grazie grazie a tutti in ogni parola c'è sempre un piano io e se lo userò come motto nella mia vita ricordatevi che dante è un piano in questa visione assolutamente tonda finale di questo canto dodicesimo ma che è un canto poi che in maniera tonda chiude addirittura tutto il la cornice dei superbi io vi lascio vi auguro una buona serata finiremo il mese appunto questi due appuntamenti e dopo però vedrete che giugno abbiamo pensato delle cose impressionanti grazie a tutti quanti grazie a riccardo che sempre scandisce le dirette con i suoi commenti preziosi grazie a tutti quanti voi avevo letto una cosa bellissima di francesco che parlava della condizione ecco qua la condizione dell'esilio offre lo strumento creativo del discernimento dell'animo e della vita un attraversamento dell'empatia tra uomo e divino francesco standing ovescio è vero se non ci fosse stato l'esilio forse dante purtroppo o per fortuna non avrebbe avuto accesso al divino ciao grazie veramente di tutto